aeroporto si attiva il volo diretto ancona parigi pesero lancia la candidatura dem di bonaccini a pecchio dopo l'esondazione resta l'allerta valle foglia in monte labate no alla fusione comunale vl la solidarietà vacanestro per casa tabanelli buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati a rossini news il telegiornale del canale 80 che in questo mercoledì 18 gennaio apriamo parlando di trasporti sulle marche infatti tema ricorrente quello del lavorare sul migliorare la retratezza dei nostri collegamenti in particolare quelli stradali e ferroviari intanto però come vedremo migliorano i collegamenti aerei dall'aeroporto sanzio di ancona infatti ora si potrà volare direttamente su parigi due volte la settimana percorrere in aereo la tratta ancona parigi e viceversa da oggi è possibile dal 27 maggio per l'esattezza il giorno individuato per la partenza ufficiale del collegamento internazionale tra il capoluogo delle marche la capitale francese un volo che sarà possibile effettuare sulle ali di volotea compagnia spagnola low cost delle piccole e medie città per ben due volte a settimana ad ogni martedì e sabato ad un prezzo vantaggioso dall'aeroporto delle marche a quello di parigi char de gaulle dall'aeroporto sanzio a quello di londra gatwick un raddoppio in questo caso visto che la capitale inglese è già raggiungibile con il volo ryanair tutti i giorni ma allo scalo di stansted con la compagnia esigetti invece sarà possibile volare ogni lunedì e venerdì fino al 28 giugno atterrando a sud di londra due opportunità gradite dal presidente acquaroli che considera fondamentale per ridare centralità al territorio regionale finalmente si va a parigi e soprattutto da parigi si può volare in tutto il mondo quindi per ancona è sicuramente una data per ancona e per l'aeroporto delle marche è una data da segnare con rosso credo che immaginiamo la centralità che può trovare ancona con i voli di continuità con i voli su parigi con i voli su londra questo significa certamente portare la nostra regione il nostro capoluogo ad essere presente su dei mercati su dei circuiti dove fino ad oggi eravamo non solo assenti quindi c'era precluso tutta una serie di opportunità oggi queste opportunità tornano ad essere tangibili e quindi dobbiamo essere bravi noi a costruire insieme all'agenzia con tutte quelle che possono essere le sinergie che possiamo mettere in campo le opportunità che poi dovrebbero automaticamente tornare sul territorio concretamente con la crescita della nostra economia turistica l'internazionalizzazione la manifattura i prodotti anogastronomici tutte quelle che sono le opportunità che poi possono nascere e affermarsi parigi e londra rappresentano due obiettivi raggiunti all'interno del bando regionale che prevedeva l'attivazione di nuovi voli all'aeroporto sanzio un collegamento con l'europa che può dirsi esteso ma non sul territorio greco visto il passo indietro fatto da volotea per la tratta ancona santorini previsto inizialmente all'interno del bando devo dire che santorini era sicuramente una meta importante però era più una meta importante come hub di partenza e non di ritorno invece noi parliamo con parigi e londra anche di una meta un circuito di ritorno ecco credo che il mercato che ci può aprire parigi è un mercato che indirettamente non ci apriva santorini con la nuova rotta per parigi salgono a cinque le destinazioni raggiungibili da ancona a bordo di volotea è infatti possibile decollare anche per olbia catania palermo e cagliari rotta quest'ultima che tornerà ad essere operativa con due frequenze settimanali sempre dal 27 di maggio dall'aeroporto di ancona oltre alle cinque tratte percorribili con la compagnia spagnola si può viaggiare alla volta di londra bruxelles monaco bucarest e tirana un'offerta che il sanzio dall'estate 2023 amplierà di tre destinazioni con i voli di continuità territoriali su roma fiumicino milano linate e napoli aspettiamo una risposta importante il combinato risposto tra queste rotte nuove internazionali che abbiamo lanciato in questi giorni oltre ai nuovi voli di continuità territoriali su roma napoli e milano ci permetterà si fare un salto fondamentale per quanto riguarda i flussi di traffico sia in coming che outgoing e che quindi darà una spinta ulteriore per poi raggiungere quelli che sono gli obiettivi di piano di medio lungo termine che ci siamo previsti e andiamo su pesero dove arrivano rassicurazioni sul progetto delle bio laboratorio che prevede il trasferimento dell'istituto zoo profilattico togo rosati alla zona torraccia della città rassicurazioni che oggi il direttore dell'istituto vincenzo caputo ha portato alla commissione sanità della regione marche presieduta da nicola baiocchi dopo aver fatto altrettanto ieri sera nella commissione ambiente del comune di pesero il neossessore maria rosa conti e il presidente di commissione michele gambini hanno assicurato che non ci sarà nessuna sperimentazione prevista ma che si tratterà di ospitare eventualmente trattare animali di piccola taglia sospetti di patologie da contenere il livello di sicurezza bsl 3 servirà a svolgere il servizio in totale sicurezza come previsto da una direttiva comunitaria e da una legge dello stato il direttore caputo ha chiarito in modo netto che questa struttura non potrebbe essere utilizzata per fare sperimentazioni neanche volendolo perché sarebbero necessarie caratteristiche progettuali diverse e i ter autorizzativi completamente differenti e passiamo alla politica perché ieri sera l'hotel baia flaminia di pesero ha ospitato una tappa della candidatura di stefano bonaccini alla segreteria nazionale del partito democratico vediamo com'è andata pesero fa da trampolino di lancio alla candidatura di stefano bonaccini alla segreteria nazionale del partito democratico il candidato alla guida dei dem ha fatto tappa ieri sera in città dove l'hotel baia flaminia è stato accolto dalla presidente provinciale monica scaramucci e da 250 persone che hanno ascoltato i punti salienti della candidatura in vista del responso del 26 febbraio una tappa pesero seguita da una d'ancona con l'appoggio dei sindaci mancinelli ricci cartina torna sole di tanti comuni a guida pd molto più di un migliaio di sindaci sindache amministratori amministratrici locali a sostegno è una cosa per me molto positiva forse parliamo lo stesso linguaggio io ho fatto l'amministratore a campogagliano dove abito da ragazzo l'ho fatto a modena città da otto anni alla guida della regione e mi piace molto ad esempio stare nei luoghi tra le persone perché non basta per essere capaci ma ho imparato che solo se conosci le persone ai luoghi puoi provare ad esserlo e quindi anche oggi abbiamo incontrato aziende lavoratrici lavoratori di aziende in difficoltà sono stato ad ancona adesso qui quindi mi fa ovviamente piacere non può esserci il partito solo dei sindaci o degli amministratori ci mancherebbe però una domanda qualcuno dovrebbe farsela com'è che a livello nazionale non vinciamo perdiamo da anni anni e governiamo più di due terzi dei comuni italiani vuol dire che ci sono nei territori in giro per l'italia tante donne uomini ragazze ragazzi che una volta che li fai misurare col consenso degli elettori delle loro comunità trovano consenso e voti anche laddove la stessa platea elettorale quando ci deve scegliere a Roma non ci vota quindi vuol dire che c'è una classe dirigente già pronta per essere in parte anche chiamata alla guida del partito poi ripeto non bastano loro però nessun altro partito ha un numero così rilevante di amministratori che se sono lì è perché hanno vinto le elezioni non facendosi nominare ma mettendoci la faccia e prendendo i voti dei cittadini dobbiamo ripartire portando tante persone a votare facendo diventare la data delle primarie il vero atto di rigenerazione del partito democratico abbiamo bisogno di partire da una guida solida autorevole e al tempo stesso da una grande energia popolare come quella di Stefano Bonaccini è una fase difficilissima dal punto di vista politico siamo sotto attacco dobbiamo riprenderci dobbiamo ripartire da diciamo da colui che in questo momento può dare più forza alla nostra ripartenza poi ci sarà un duro lavoro da fare adesso è importante riprendere un cammino ridare una speranza a un popolo affranto dopo la sconfitta elettorale che vuole che facciamo una dura opposizione al governo Meloni al tempo stesso che si ricostruisca un partito solido appunto che abbia una prospettiva e possa ridare una speranza a tutti i progressisti italiani io adesso faccio questa corsa insieme ad Elislein Paolo De Micheli e Gianni Cuperlo per vedere chi riuscirà a guidare questo partito speriamo e cerchiamo di portare più gente possibile in un momento non propriamente favorevole per noi dopo la sconfitta elettorale alle primarie sarà un'altra grande festa della democrazia cosa che facciamo solo noi non gli altri partiti però indubbiamente il giorno dopo se divento segretario un po' di cose le dobbiamo cambiare mai più sei mesi per fare un congresso che sembriamo marziani rispetto alla gente normale mai più candidati scelti in quattro magari a Roma in una stanza e non attraverso il consenso dei nostri elettori quindi se non cambia questa legge elettorale io la prossima volta se sono segretario utilizzerò utilizzeremo lo strumento delle primarie affinché nei territori si scelga chi si candida in Parlamento così se sbagliamo sbaglieremo tutti insieme e non in pochi da soli qualche settimana fa vi avevamo anticipato in una intervista realizzata al vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini come in questo 2023 ogni 24 del mese sarà una tappa importante d'avvicinamento a Pesaro capitale della cultura 2024 si comincia dunque martedì 24 gennaio alle 14.30 al teatro sperimentale in un appuntamento che riunirà tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto 2024 incontro che proseguirà poi alle 17 nel Salone Metaorense della Prefettura dove si riuniranno 50 sidaci della provincia per il via al progetto e come ieri anche in questo mercoledì si sono registrate precipitazioni un po' in tutta la provincia di Pesaro e Urbino dove resta monitorata l'allerta maltempo in particolare ad Apecchio dove ieri si sono rilevati danni per la esondazione delle torrente Biscubio Le piogge con cui è iniziata questa settimana riaccendono i riflettori sulle fragilità idrogeologiche del nostro territorio la situazione più critica ieri ad Apecchio dove sono bastati 20 minuti di pioggia intensa per causare l'esondazione del torrente Biscubio nella zona industriale invasi dall'acqua solamente uno studio tecnico e due magazzini che hanno subito danneggiamenti ovvero strutture più vicine al torrente Ascoltiamo il punto della situazione descritto dal sindaco Nicolucci in questo mercoledì mattina Dopo le 14 un punto critico si è verificato intorno alle 13.30 alle 14 e poi la situazione fortunatamente le precipitazioni sono interrotte quindi poi l'acqua ha cominciato a defluire c'è stato un innalzamento del livello del fiume da contatti con la sala operativa della protezione civile a 4,20 metri circa poi dopo è cominciato a scendere dopo era sceso di due metri dopodiché il fiume mantiene una certa intensità ovviamente le precipitazioni si sono via via diradate siamo sempre in allarme, abbiamo aperto il COC il centro operativo comunale siamo in contatto con la protezione civile abbiamo chiamato i vigili del fuoco, le forze dell'ordine quindi polizia, carabinieri e quindi anche adesso siamo in una situazione di estrema attenzione dunque sono caduti, mi dice la protezione civile dai rilievi 48 mm di pioggia in quel picco particolare ovviamente le piogge sono iniziate da ieri mattina in modo graduale poi hanno raggiunto quel picco nell'orario che ho detto nessuna persona coinvolta ma qualche danno materiale seppur contenuto si è registrato fatto sta che alla luce anche della maxialluvione di 4 mesi fa le aree interne restano in costante stato di allerto ad ogni precipitazione ci siamo abituati purtroppo dico purtroppo perché questa abitudine avremmo voluto non averla ma a precipitazione ad eventi che sono sempre più anomali e quindi quello che una volta era un'anomalia veramente eccezionale adesso vediamo che si sta manifestando qui o altrove in situazioni di maggior frequenza per cui forse dobbiamo cambiare un po' tutto il nostro approccio all'osservazione dei fenomeni atmosferici tramonta l'ipotesi di fusione comunale tra i territori di Vallefoglia e Montelabate con quest'ultima amministrazione che si tira indietro dall'ipotesi di un'unione i comuni di Montelabate e di Vallefoglia non si uniranno a far tramontare ogni ipotesi intavolata da tempo è la stessa giunta della sindaca Ferri che ieri sera attraverso un comunicato stampa ha bocciato il progetto considerando l'assenza di presupposti che consentivano di percorrere questo percorso di fusione delle differenze gestionali che separano ulteriormente Montelabate da Vallefoglia dopo l'uscita nel 2017 dall'unione dei comuni di Pian del Bruscolo fondersi con i comuni di Vallefoglia è stata anni fa una richiesta che lo stesso comune di Montelabate aveva inoltrato e questo passo indietro il sindaco Ucchielli l'ha definito come un chiaro errore e un'enorme opportunità persa le fusioni vanno fatte a prescindere perché portano risorse per i cittadini se uno pensa solo alle poltrone diventa un problema se uno pensa invece al bene dei cittadini noi con le risorse delle fusioni abbiamo fatto un'infinità di cose Pesero con Montecicardo oggi ha risorse per fare tutto quello che serva a Montecicardo che era pieno di debiti e non poteva fare nulla penso che su Montelabate sia un errore per i cittadini di Montelabate perché da una fusione o con noi o con un altro comune avrebbero risorse per fare tante cose valuteranno i cittadini di Montelabate cosa pensano? io penso che la stragrandissima maggioranza probabilmente sarebbe d'accordo a fare la fusione penso che i cittadini farebbero bene a raccogliere le firme per fare una fusione con chi ritengono opportuno loro e che ovviamente questo significa portare tante risorse a Montelabate e a sentire la gente se la gente è d'accordo si fa se no si rimane così com'è anche perché voglio dire così uno fa solo l'ordinaria amministrazione se non fa le fusioni se fa le fusioni fa tante cose per i cittadini io preferisco che si faccia le cose per i cittadini prende forma la nuova azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino dopo il commissario straordinario Maria Capalbo sono stati nominati anche i due subcommissari per la direzione sanitaria e la direzione amministrativa si tratta del dottor Edoardo Berselli che ha già rivestito l'incarico di direttore sanitario presso l'azienda ospedaliera Marche Nord mentre per la parte amministrativa è stata nominata la dottoressa Anna Olivetti esperta di controllo di gestione con ampia esperienza di dirigenza amministrativa in Asur Area Vasta 1 anche il comune di Gradara è stato presente ieri a Roma nella sala gruppi parlamentari di Camera e Senato assieme agli altri sindaci, amministratori e componenti del direttivo dei borghi più belli d'Italia delle Marche l'occasione è stata quella della presentazione ufficiale della guida dei borghi più belli d'Italia tradotta in inglese una importante promozione turistica e culturale in tutto il mondo per quello che riguarda i borghi e le eccellenze certificate proprio come Gradara e invece domani alle ore 21 al Museo Officine Benelli di Pesaro si terrà una serata speciale dedicata ad un incontro con un grande campione del motociclismo mondiale ovvero Graziano Rossi, pilota di Valentino Rossi che si racconterà dialogando con il giornalista del resto del Carlino Franco Bertini con il quale ripercorrerà le tappe più straordinarie della sua carriera e della sua vita da pilota e invece sabato 21 gennaio alle 17 la sezione pesarese della Lega Navale Italiana ospiterà l'appassionato ed esperto di marineria Carlo Volpe per un approfondimento sul tema dell'evoluzione delle barche dei vacanzieri in Adriatico dalla marineria del passato fino al giorno d'oggi e concludiamo occupandoci di una iniziativa della VL che sabato manderà a canestro anche la solidarietà attraverso una iniziativa che vi illustriamo in questo servizio Virata la boa di un'andata spettacolare sabato sera alla Vitri Frigo Arena la Carpegna Prosciutto Basket inaugura il suo girone di ritorno contro Verona e lo fa mandando a canestro pure la solidarietà quella che il main sponsor Biancorosso recapita a casa Tabanelli e alla gestione dei volontari della Caritas attraverso i proventi che verranno raccolti dalla vendita di gadget molto particolari tutto il gruppo squadra scenderà infatti sul parquet con una dozzina di sovramaglie create per l'occasione maglie in cui si abbinano numero e soprannome di ogni cestista pezzi unici che saranno messi in vendita online allo scopo di migliorare l'accoglienza delle persone in difficoltà che vengono ospitate da casa Tabanelli struttura di fatto vicina di casa della Vitri Frigo Arena I giocatori che si sono anche prestati in maniera molto collaborativa e simpatica e anche appassionandosi un po' all'iniziativa indosseranno queste sopramaglie durante il riscaldamento e durante le fasi della partita contro Verona e quindi saranno pezzi unici che poi verranno messi in vendita direttamente sulla sezione online del sito vittorialibertas.it a partire proprio da sabato stesso il prezzo di ogni sopramaglia è di 150 euro C'è da ringraziare veramente molto la Carpegna Prosciutto perché ha ideato questa iniziativa sta spingendo, sta spingendo sul territorio sta spingendo nel cercare di essere non solo presente sul campo e per la società ma per tutto quello che è la regione a Marche e a maggior ragione la nostra provincia quindi benissimo un'iniziativa lodevole e molto simpatica tra l'altro che può essere così un ricordo che tanti speriamo comprano la maglia in una stagione anche fortunata come stiamo avendo A ricevere l'assist dalla Carpegna Prosciutto Basket Caritas e Fondazione Lions proprietaria di Casa Tabanelli che gli stessi Lions inaugurarono nel 2015 Ringraziamo la famiglia Beretta ringraziamo la VL per veramente questo atto di attenzione a Caritas ma soprattutto attenzione alle persone più fragili grazie a questa iniziativa possiamo sia offrire un sostegno concreto alle persone in difficoltà ma soprattutto possiamo veramente riporre l'attenzione di tutta la comunità verso questo progetto che mira veramente a risollevare e offrire delle possibilità concrete a persone che in questo momento vivono in uno stato di difficoltà Casa Tabanelli è una casa d'accoglienza per senza fissa rimora la casa ospita sia maschi che femmine e attualmente ci sono 15 ospiti è una casa che ha come obiettivo quello di offrire a queste persone il tempo e le opportunità per costruire degli spazi di ripartenza e di autonomia è una casa gestita da Caritas di proprietà della Fondazione Lions ed è sostenuta da tutta la comunità con l'opera di almeno 50 volontari che si alternano nei turni di volontariato sia notturni che durante tutta la giornata i proventi serviranno a creare una zona ricreativa all'interno della struttura una zona che quindi aiuterà le persone a vivere quel luogo non solo come luogo per mangiare e dormire ma veramente un luogo di benessere benessere necessario per avere poi quella forza per poter ripartire oltre a questo acquisteremo anche delle biciclette che saranno utili per gli ospiti per spostarsi in città e quindi partecipare più attivamente alle attività del territorio Sport e solidarietà dunque concludono questo nostro telegiornale Sport e storie molto particolari aprono la nostra prima serata alle 21.20 con l'approfondimento se vuoi puoi con il nostro Antonio Stuti che ha intervistato Marco Manzini atleta paralimpico campione italiano e il suo allenatore Luca Fontana con la storia molto particolare di Manzini che sarà approfondita in questo nostro appuntamento delle 21.20 e poi vi ricordo domattina la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini come sempre in diretta alle 7.20 edizione del giovedì che sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi giovedì che poi anche la serata di insieme a Canestro si è conclusa l'andata con il quarto posto della VL questo uno dei temi così come la prossima partita di sabato con Verona la Vitrifigo Arena che aprirà il girone di ritorno e le stesse finale di Coppa Italia che saranno analizzate attraverso il salotto coordinato dal nostro Marco Cadedu che avrà come ospiti il vice allenatore della VL Bruno Savignani e l'ex giocatore bianco-rosso Federico Pieri il tutto con la possibilità dei vostri commenti in diretta da casa al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 appuntamento, lo ricordiamo ancora, alle 21.20 in diretta come ogni giovedì ed è invece davvero tutto per questa sera per quelle che riguarda Rossini News vi lascio alle previsioni del tempo vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi